Andrea Pucca è appena terminata la gara contro il Nardò, un risultato che non vi premia, siete da lì sotto nel primo tempo, avete subito due gol all'inizio secondo tempo, poi c'è stata la reazione, avete qualche rimpianto? Sì, abbiamo un rimpianto di essere, anzi di aver regalato penso 50 minuti. Una squadra come la nostra non può permettersi, soprattutto in casa, dobbiamo cambiare l'atteggiamento, non possiamo andare a sprazzi, secondo me dobbiamo aggredire prima la partita e non subire prima lo schiaffo. Siete partiti un po' contratti, siete partiti un po' lenti, infatti il Nardò ha avuto l'iniziativa, sono cose su cui si può lavorare, si può migliorare con il lavoro? Sì, perché se analizzo i gol sono stati regali, secondo me possono evitare tranquillamente. L'unica cosa positiva è stata la reazione dopo al 3-0, ma ripeto sono veramente amareggiato, dai, perché non possiamo regalareci moltamente. Cosa ti senti dire ai tifosi? I tifosi innanzitutto mi dispiace avergli regalato questa brutta prestazione, soprattutto all'inizio, però la strada è lunga, noi dobbiamo invertire subito la rotta, andare agendo domenica, e dobbiamo portare a casa i tre punti. Grazie. Grazie. Grazie.